Ben ritrovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignone. In A1 troviamo rallentamenti verso Roma tra Sasso Marconi e il Bivio A1 variante. In A11 in direzione Pisa coda dovuta al traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est. Si registrano disagi per traffico intenso presso il Bivio A1-A11 Firenze Pisa Nord. Coda per un mezzo fermo in Fipili in direzione Livorno tra Cascina e il Bivio di Ramazione per Pisa. Coda in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. In direzione Firenze code tra la Strassigna e Firenze Scandici. A Firenze chiusura di corsia in via di Mugello tra via Casentino e via Lippi e Macia. Accesso consentito solo a residenti e mezzi di soccorso. Fino al 7 giugno lavori di manutenzione sulla linea ferroviaria tra Bologna e Prato, variazioni e corse speciali con bus per alcuni treni intercity e regionali. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio!